Sono Paola, oggi vi leggerò una storia che spero che vi piaccia perché è molto deliziosa. Il titolo del libro è proprio tutti. A volte la giornata sembra non finire mai ti capita di essere felice un momento e triste quello dopo. Oppure deluso, disperato, arrabbiato, matto, furioso, fuori di testa. Ma nessuno sembra ascoltarti. A volte hai solo bisogno di piangere e va bene così. Quando piangi non sei solo. Quando ridi la felicità sboccia. E' bella la felicità sboccia. E quando canti tutti ti ascoltano. Tutti cantano, ridono e piangono qualche volta. Qui anche gli animali stanno piangendo. Tutti hanno dei sentimenti e va bene così perché tutti li condividono. proprio tutti. che anche gli animali stanno piangendo. Quinti è la felicità sboccia. Qui anche gli animali stanno piangendo. E' bella di più iniziare. Quinti è bella. 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 Grazie.